Il procuratore generale Romolo Como ha firmato, depositando in Corte d'Appello, il ricorso in Cassazione contro la sentenza di secondo grado per la Commissione Grandi Rischi, con la quale i giudici hanno assolto sei imputati su sette. Una questione di principio l'ha definito così Como, il ricorso formalizzato dopo un'attenta analisi delle quasi 300 pagine con le quali i giudici hanno motivato le sei assoluzioni e l'unica condanna, quella per Bernardo De Bernardinis, riformata nella sostanza. Sono due le contestazioni, ha detto Como motivando il ricorso, il fatto che i giudici abbiano ritenuto che quella non fosse una riunione formalmente costituita della Grandi Rischi e anche il fatto che avrebbero dovuto agire con un diverso ordine di prudenza, anche se quella non fosse stata una commissione regolarmente formata. Nella richiesta, che ora dovrà essere vagliata dalla Cassazione, si impugna solo la sentenza di assoluzione dei sei scienziati, non quella per l'unico condannato. Abbiamo fatto il ricorso per quanto riguarda tutte le assoluzioni, mentre per la condanna ridotta di Bernardo De Bernardinis non è stato possibile, ci penseranno i ricorsi delle parti civili, perché c'erano questioni in punto di fatto. Le parti civili, infatti, già da un mese stanno studiando le motivazioni di sentenza e a breve presenteranno a loro volta i ricorsi. Non solo questa, perché questa mattina sempre l'avvocato generale Romolo Como ha presentato una richiesta di rinvio a giudizio per l'ex numero uno della protezione civile, Guido Bertolaso, per il quale Como aveva avvocato a sé il fascicolo dal tribunale, dopo che per ben due volte il pubblico ministero, Fabio Picuti, aveva formalizzato la richiesta d'archiviazione al giudice per le udienze preliminari, Giuseppe Romano Gargarella. Il processo per Bertolaso è quello definito satellite alla Commissione Grandi Rischi, e sulla sua testa appendono gli stessi capi d'accusa, per i quali i sette scienziati sono stati condannati in primo grado ed assolti in secondo, eccezione fatta per il vice di Bertolaso stesso, De Bernardinis. Adesso proprio quel fascicolo, avvocato dalla procura generale, tornerà nelle mani di Gargarella, che dovrà decidere se portare alla sbarra Bertolaso, così come volevano le parti civili, che per due volte avevano chiesto per l'ex capo di partimento il processo, trovando il diniego proprio di chi aveva fatto condannare gli scienziati della Commissione.